Hai visto il team durante la season, la fortuna e la fortuna di questo team? Ho visto il team giocare 5 o 6 volte e mi piace il team. Mi piace i giocatori e ho pensato che c'era molto talento. Per quanto riguarda la fortuna e fortuna, mi piace il team. Penso che c'è un buon team qui e ho parlato con i giocatori che sono davvero entrati per ottenere più il resto del anno. Qua difficoltà è stato fatto a questo punto della season? Non è difficile per me. La preoccupazione è di quanto è difficile per i giocatori. Hockey è hockey. Se siano i giocatori in una squadra durante la season, non c'entrava rinventare il hockey, ma c'entrava fare il meglio per i giocatori. Quindi, siamo arrivati a un buon start per comunicare con i giocatori. Quindi, spero di giocare un po' più in tempo. E cercare di fare le cose come possiamo. Qua'è il target? Il target è ovviamente di fare la giocatori. Questo è l'unico target. E l'assessibilità di i giocatori, quando ho parlato con i giocatori, pensano che 7-3 è un buon record per questo. Ma l'altra parte, è sempre gioco un gioco a un gioco. Ho ho detto che 1,000 volte. E fare lo meglio ogni volta che gioco.